Il comune di Messina ci riprova con l'Ecopass. Oggi il sindaco De Luca ha incontrato il dirigente alla mobilità urbana Mario Pizzino. Sarà convocata una conferenza dei servizi per reintrodurre le zone a traffico limitato nelle aree limitrofe e gli imbarchi, atto che risulterebbe propedeutico al ripristino delle ticket di attraversamento dalla città, provvedimento voluto per compensare l'inquinamento ambientale ed acustico che Messina continua a subire. Durante l'incontro di questa mattina si è provato a fare chiarezza anche sulle cifre che Parato Zanca potrebbe incassare. In passato il comune ha ottenuto circa 2 milioni di euro l'anno, fondi che sono stati destinati per la manutenzione delle strade. L'Ecopass era stato introdotto durante l'amministrazione del sindaco Buzanca. A giugno dello scorso anno il Tardicatania ha annullato il provvedimento, accogliendo il ricorso presentato dalla cooperativa agricola Baglieri con il supporto dell'autorità portuale di Messina. Il tribunale amministrativo ha contestato la delibera 53C approvata dal Consiglio Comunale nel maggio del 2013, evidenziando una serie di vizi nel procedimento e in particolare il mancato aggiornamento del piano urbano del traffico. Ora l'amministrazione De Luca intende fare ordine e reintrodurre quel ticket che potrebbe rappresentare un'occasione per l'intera città. Più volte in passato abbiamo denunciato la mancanza di chiarezza nella gestione di queste risorse. Tra le questioni che Parato Zanca adesso dovrebbe affrontare c'è pure quella della riscossione. La precedente amministrazione aveva immaginato la gestione tramite proprio personale con l'installazione di apparecchiature elettroniche per il controllo, evitando dunque il passaggio di queste somme dalle casse delle compagnie di traghettamento.